Un'estate da trascorrere in Basilicata a contatto con la natura. Dal 31 maggio fino all'8 settembre 2013 saranno organizzate nei parchi lucani giornate dedicate al trekking e nei centri storici dei comuni limitrofi spettacoli itineranti, mercatini e grandi eventi. Lo prevede il cartellone della manifestazione Naturarte promossa da quattro parchi naturalistici, Murgia Materana, Appennino Lucano Valdagri Lagonegrese, Gallipoli Cognato, Piccole Dolomiti, Lucane e Pollino presentata dal presidente della regione Vito De Filippo e dal direttore dell'APT Giampiero Perri. I parchi regionali hanno determinato effetti turistici interessanti ha sottolineato il presidente della regione De Filippo e hanno potenzialità che si intendono cogliere con questo nuovo metodo di sinergie tra parchi regionali e nazionali organizzando un cartellone di eventi culturali, artistici, gastronomici e di promozione ambientale. Attraverso questo progetto, ha poi spiegato il direttore dell'APT Giampiero Perri, saranno offerti ai visitatori 12 fine settimana alla scoperta di nuovi sentieri e nuovi luoghi naturalistici.